Torna Melodia del Vino, il festival internazionale che unisce musica classica e vino toscano nelle più belle tenute vitivinicole della regione. Dal 27 giugno al 6 luglio in programma cinque concerti ospitati in quattro province toscane, Firenze, Grosseto, Siena e Livorno. Il festival, che nasce sull'impronta del suo gemello francese Grand Cru Musicaux, è un ponte ideale tra le eccellenze di Toscana e Francia. Per questo la regione toscana ha deciso di aderire e sostenere l'iniziativa fin dalla sua prima edizione del 2011. Si radica nell'ambito territoriale questo festival che ha come connotazione l'unire la cultura e quindi la musica con il vino, con le tenute, con le cantine d'autore quest'anno e con i territori. Melodia del Vino aprirà il 27 giugno con la performance del pianista ucraino Alexander Romanowski nella prestigiosa Cantina Antinori nel Chianti Classico a Bargino. La struttura, ideata da Marco Casamonti, è stata progettata per fondersi con l'ambiente e il paesaggio circostante. La sua acustica regalerà emozioni indimenticabili. All'interno della cantina c'è un auditorium con un'acustica meravigliosa perché è rivestito di legno di rovere che è il legno in cui si fanno le barrique. E quindi c'è un auditorium per 200 posti dove c'è una musica straordinaria. Nelle navate dove ci sono le barrique l'acustica e quella da chiesa perché le navate, le volte, si ispirano appunto all'architettura sacra. Il festival proseguirà il 29 giugno a Cantina Petra a Suvereto. Nella cantina progettata da Mario Botta si esibiranno Marc Laforet e François René Duchable. Lo stesso Duchable che dieci anni fa decise di dire addio alle performance live con un gesto eclatante. Gettò da un elicottero il suo pianoforte in fondo ad un lago vicino a Nizza. Il 2 luglio Melodia del vino sarà Castello Poggio alle Murabanfia, Montalcino, con la performance di Marc Laforet e Henri de Marquette. Il 4 luglio è la volta della tenuta a Rocca di Montemassi a Roccastrada con la giovanissima Beatrice Rana. Gran finale il 6 luglio nella tenuta a Rocca di Frassinello a Gavorrano nella cantina disegnata da Renzo Piano dove si esibirà il pianoforte Giovanni Bellucci. Il messaggio è ancora l'armonia dei sensi. Proponiamo un vero viaggio musicale tra vini, colori e paesaggi della Toscana. Decisivo per la riuscita dell'evento il supporto di Toscana Promozione di Fondazione Sistema Toscana che ne cura la comunicazione online. Il nuovo logo è stato ideato dall'architetto generoso Matteis e dalla sua equipe. Fondamentale il supporto dei numerosi sponsor e partner. Portiamo l'acqua di Toscana a Panna che sgorga qui a Scarperia a 20 km di Firenze. Portiamo Toscana nel mondo e con Melodia del vino torniamo in Toscana a celebrare la bellezza, il bello e il buono della Toscana. I biglietti per gli spettacoli oltre che sul sito del festival Melodiadelvino.it potranno essere acquistati sul sito di Box Office e nei 100 punti vendita della Toscana nel circuito Box Office.